Un saluto a tutti, da Bidroid ci troviamo con il Galaxy Note 2 recensire una ROM, si tratta di una XenogenMod, quindi Android puro, e si tratta di una 7.1, come andiamo a vedere su impostazioni del telefono, 7.1, il dispositivo del Galaxy Note 2 GT N7100, la versione è una XenogenMod non ufficiale. Successivamente si possono vedere qui i livelli di sicurezza, la patch, il livello delle api e così via. Andiamo subito ad entrare nel vivo di questa ROM, innanzitutto la barra di Google è presente in ogni schermata, esistono due opzioni, andando in impostazioni, oltre a vedere la nuova interfaccia, andando in applicazioni, esistono due, che possiamo chiamare launcher, tre buscette, il classico launcher, e avvio applicazioni e now. Andiamo subito a vedere tre buscette. Utilizzando tre buscette, noi possiamo andare ad, praticamente, guarda, ora lo inseriamo, queste sono le, il livello di informazioni e configurazioni delle nostre applicazioni. Andiamo a vedere queste impostazioni e le varie cartelle presentano la vostra abilità di essere bloccate. D'altronde abbiamo l'applicazione di avvio Google Now. Andiamo in impostazioni, a cambiare successivamente, app, avvio applicazioni now, che presenta una caratteristica. Innanzitutto la barra di Google è presente in ogni schermata. Ok Google, dal quale possiamo noi cercare tutto quello che necessitiamo. Successivamente, questo è il drawer, dove qui possiamo ricercare le applicazioni. La tastiera l'ho cambiata perché non piace a me molto la tastiera di Google, dato che non ha i numerini di sopra. Ma io sono abitato con questi numerini e quindi l'ho cambiata. Per quanto riguarda una caratteristica delle avvio applicazioni now, è la possibilità di una simulazione di 3D touch, quindi la possibilità con le applicazioni di Google di avere queste funzionalità, come nuova scheda, scheda, incognito. Per ora sono poche applicazioni, sono le applicazioni di Google, le mie app. Possiamo avere tante situazioni interessanti, lavoro, casa, Gmail, scrivi. Sono tante applicazioni simpatiche, tante funzioni simpatiche che possono essere utili. Quanto riguarda la fotocamera, la fotocamera per ora è funzionante. Andiamo a girare la fotocamera. La fotocamera per ora è funzionante e mi sto trovando abbastanza bene. Successivamente vediamo i toggle. Un'altra cosa che cambia sono i toggle. Vatti presentare in questo modo minimal e successivamente possiamo ingrandire e personalizzare come vogliamo. Infatti possiamo spostare tutti quelli che vogliamo e spostare anche la posizione. Un'altra cosa carina di questo romo sono le notifiche. Vabbè, presentano la classica notifica. Come ad esempio qui successivamente. Possiamo andare a vedere la classica funzione di spegnimento schermo con il doppio tap sulla status bar. La status bar noi lo possiamo modificare come vogliamo. Questo che abbiamo visto è lo sblocco. Per quanto riguarda il dare il telefonico, qui esistono i numeri. I messaggi, l'applicazione è abbastanza bella. Possiamo scrivere i nuovi messaggi. Il sistema è abbastanza fluido. Dal punto di vista, anche Chrome poteva utilizzare questa simulazione di 3D Touch. Una cosa che consiglio è quella di... Un problema che ho riscontrato è quello di andare all'utilizzo dati e andare in reti cellulari. Consiglio subito. Andare in reti cellulari e fare lo switch da 2G a 3G perché le impostazioni predefinite, almeno nella mia installazione, erano 2G. Quindi la connessione diventava molto lenta. Non perché non prendesse, ma perché necessitava di questo switch. Successivamente, un'altra caratteristica importante sono le applicazioni in esecuzione. Devono andare a essere richiamate con il tasto menu. E' presente in questo modo. Abbiamo la possibilità di utilizzare le applicazioni divise nello schermo, trascinando qui. Qui avremo questa applicazione. Alcune naturalmente presentano piccoli problemi perché forse non compatibili fra loro. Però possiamo andare a richiamarle in questo modo. Cosa molto utile. Per uscire da questo sistema basterà prendere qui e trascinarlo in alto. E usciremo dal sistema di applicazione condivisa. Successivamente possiamo andare a dare un'occhiata nel drawer. Che già forse abbiamo visto. E' abbastanza funzionante tutto. La possibilità di cambiare utente è anche necessaria. Quindi se a qualcun altro volessimo far cercare qualcosa, magari collegarsi da qualche altra parte, facciamo aggiungere utente o utente ospite. In questo modo potrà collegarsi. Successivamente, io consiglio molto questa ROM. Andiamo a vedere cosa ci dimentichiamo. Un'altra possibilità di questa ROM è la possibilità di ruotare il telefono e avere il lancio di applicazione, il drawer in questo modo. E può essere una situazione abbastanza carina. Andiamo a rimettere il telefono normale. Vediamo che nelle impostazioni per cambiare l'omosità la barra inizialmente scompare. C'è la barra resta, ma inizialmente scompaiono i vari tubo per poi ripresentarsi quando andremo a lasciare la sbarra. La possibilità di chiudere le applicazioni da Cancella tutto, qui sopra. E una cosa interessante è il benchmark. Il benchmark risulta di 31402. Un risultato veramente importante per un Galaxy Note 2 che presenta sempre sulle spalle i suoi 4 anni. L'applicazione di Google funziona molto bene. Al lato troviamo l'applicazione di Google con tutte le situazioni, se stanchiamo calcio, se stanchiamo alcune notizie che ci vengono fornite. L'avvio di applicazione di Google Now non ha la possibilità di bloccare le applicazioni. Successivamente troviamo l'app della musica. Troviamo un'app gesto data, una galleria. Andiamo a chiudere. La rotazione è automatica. Troviamo tutte le funzioni classiche. Il benchmark rispecchia comunque la realtà anche perché si tratta di una ROM veramente fluida. Unica pecca della ROM è che ogni tanto fa qualche riavvio rapido. La tastiera. A me non piace la tastiera di Google. Poiché non presentava, almeno in questa ROM, i tasti numerici di sopra. Quindi abituato con i tasti numerici io ho inserito un'altra tastiera dal Play Store comunque con una personalizzazione. Per quanto riguarda, spero di non essermi dimenticato niente. Per il resto è un'ottima ROM. Io la consiglio soprattutto a chi vuole provare una ROM veramente fluida. Unica pecca di questa ROM è naturalmente, come tutte le ROM non stock, il pennino. Infatti il pennino, questa ROM praticamente non funzionerà perché non troviamo, cioè funziona ma non ha le funzioni schiacciando il pennino perché non presenta tutte le funzioni software che presentano le ROM originali. che presentano appunto il supporto al pennino. Per il resto è una ROM che vi consiglio di provare, è molto fluida e lascio le decisioni a voi se sacrificare il pennino per fluidità o utilizzare il pennino con una minore fluidità. Un saluto a tutti da Abidroid.